Tu senti bisogno di stampo per cazzini i tuoi, no? Ma qui non lo... come fai a farlo qua? Questa è casa mia, prego. Questa è una cosa. E stiamo bene. Cosa fanno quelli lì? Qua non ci manchia pa' di sciuola. Caught up in the thought of me and you, even though I love someone else, I know my heart. Mamma Rocco, ma che... No, tu pensi che mi hai già accorto da cosa stava succedendo qui? Perché sai come è un complessore? Quello mi ha lasciato perché... Non so se sai cosa stava succedendo. Io non so che ho il culo, non so fare... Cioè stiamo a chiacchierando? No, però non mi ha detto che si stava montando tutto. Non so che mi droga. Non puoi aspettare 30 secondi. E io non ho detto come 30 secondi. Non ho presa per culo perché non sto parlando. Si sta in un'altra. Non so che mi fa debba. Non so che la situazione sia così... 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 Dopo questa rubrica, che sarebbe la rubrica di Souvenir, con cui avete visto Anduccio, farò anche io un po' di capare. Capare, che si chiama, come sapete, il ridico del mio mestiere, rubrica composta da scenette fatte da me. Un signore, c'era un signore siciliano, che era un mafioso, ma signore, ma anche tanto, c'era questo mafioso che aveva un figlio di 18enne. Ora, è tradizione che i mafiosi ai figli appena compiono 18 anni e regalano una pistola. Ora ci stava questo mafioso che non aveva un figlio molto... cioè non aveva proprio l'aspetto da mafioso, era un po' esile, strimenti di cui era una persona molto timida, non aveva un po' l'aspetto da mafioso. E qui però il padre voleva che la pistola un po' il bambino la desiderasse, il ragazzo la desiderasse, allorché gli chiese, proprio per vedere, per aspettare una risposta, voleva che lui, voleva che il ragazzo, lo dicesse lui, compri la pistola, allorché gli fa. Allora, figlio o meno, calogero, tu domani, 18 anni combi, cosa vuoi che il tuo padre ci regali per il compleanno? Dimmelo tu, che vuoi? E non lo so papà, che dimmi tu che cosa mi vuoi regalare? Quello che mi regali io l'accetto. No, 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 dimmi tu cosa vuoi, una pistola, un motorino, un orologio. Sì, sì papà, voglio un orologio, voglio un orologio. Clateno, io sotto te come con l'uoto, io rispondo, io ne sono. Veramente, un fatto vero questo qua. Signore e signori, un fatto vero. Signore, siamo giunti alla fine della 32esima puntata. Io vi lascio, ma non prima di avervi ricordato che il Dilullo Show ha anche un sito, che sarebbe youtube.com slash dilullo, è il canale di Youtube. Mi raccomando, non perdetelo. Ciao amici! La cura di Dio non ci pensà, gioca di Dio che ce la dobbiamo fa. Senzi a mangi la facemma, a bim, se ne va, se ne va. Dove di, non si butti, se te lo dico giù di metti a ridere. Noi si vieni, non mi fai mai giù di di no, di sì, perché no, non ci sto. Ma stai tu, mi dici che ci sta, dobbiamo se può fare. Noi si vieni, non mi fai mai giù di metti a ridere. A presto, a presto, a presto. 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 A presto, a presto.